una signora single è al bagno del lato grill e legge sul muro un annuncio per accontentare tutte le signore faccio tutto a domicilio ma guarda che annuncio lo voglio far vedere alle mie amiche e gli fa una foto poi la sera ci ripensa quasi quasi lo chiamo sono proprio curiosa e fissa un appuntamento per il pomeriggio del giorno dopo arriva questo bel signore distinto tutto elegante scusi lei è il signore che stava aspettando sì e annuisce lo fa entrare si siede e le spiega il tariffario sul divano sono 80 euro a terra 50 euro sul letto 100 euro la signora dice e no se provo lo faccio bene sul letto cosa nella valigetta tutti gli attrezzi del mestiere quello corto quello curvo quello lungo li proviamo tutti non si preoccupi addirittura e nella borsa più grande lì c'è l'oggetto da provare il motivo della mia visita e sarebbe l'ultimissimo aspirapolvere senza fili a